In questo appuntamento con riflesso di te parleremo di trattamento laminazione sopracciglia e bio tattoo. Dopo aver eseguito detersione delle sopracciglia applichiamo primo prodotto e otterremo il processo di riduzione. I peli diventeranno morbidi e pronti per essere riposizionati nella nuova forma. Durata della posa dipende dal pelo. Il trattamento di laminazione alle sopracciglia è l'ultima tendenza e sta spopolando nel mondo dell'estetica. Permette di mettere in piega i peli in modo semi permanente. Dopo aver messo in piega le nostre sopracciglia per un effetto ancora più definito eseguiremo la colorazione con enne che colora non solo i peli ma anche la pelle ovvero bio tattoo. Assicurandosi che la cliente non abbia delle allergie o sensibilità nel caso di un soggetto particolarmente sensibile dobbiamo prima eseguire un test allergico 24 ore prima del trattamento. Una volta data la forma desiderata ai peli procederemo con l'applicazione del secondo prodotto che ci permetterà di fissare la struttura nella nuova forma durata della posa una decina diminuti. Le sostanze chimiche che si utilizzano per ottenere la piega permanente penetrano attraverso le squame del pelo e vanno ad agire sui legami disolforici. una volta finito il tempo di posa togliamo il prodotto e procediamo con la depilazione. prima di scegliere la giusta posizione delle sopracciglia sul viso dobbiamo comprendere le caratteristiche che deve avere il sopracciglio. Quando scegliamo la forma dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla tonalità del viso per renderlo armonioso ma anche alla richiesta della cliente. L'ennè è un'ottima alternativa ai trattamenti come il microblading e il tatuaggio. È una polvere colorante naturale ottenuta dalle foglie ed arami di un arbusto che sin dall'antichità è stata usata per colorare i capelli e le sopracciglia ma anche come rimedio per rendere più sani e lucenti le chiome. Colorazione con enne consente di poter lavorare sulla forma delle sopracciglia modificandola senza snaturarla, ridefinire l'arcata e riempire eventuali aree meno folte, tutto in una sola seduta. La colorazione delle sopracciglia può essere proposta anche separatamente dalla laminazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.